Sono appassionato al rock degli anni passati grazie a vari gruppi e i vari cd che aveva mio papà a casa e quindi tra cui c'era che acqua lunda è già trottale quindi adesso sono qui a vederli insomma Gli miei amici li hanno già visti eppure sono tornati ancora quindi vuol dire che è una garanzia Ian Anderson è una garanzia devo dire l'ultimo disco secondo me è bellissimo per cui ho accolto l'occasione per venire a vederlo anche in veste fra virgolette solista o magister o we aspiring angels sing with pontong forever young let us follow better things it's saintly word and perfect grammar to academia's lofty's paintings the trivium quadridium all base of hearts that do it make it io sono nato a pane i jazz trottali quando mio fratello era andava a Milano portava a casa i cd io ero ragazzino e già ascoltavo i jazz trottali quindi da sempre diciamo forza di trottali forza rock amén Grazie a tutti.